Ciao, io sono Andrea Bersani, sono il coordinatore per Genova di Pint of Science. Pint of Science è il più grande festival di divulgazione scientifica del mondo, questo è quello che noi diciamo sempre, perché nello stessi giorni, nelle stesse momenti, si sta svolgendo in 26 paesi diversi, dalla Nuova Zelanda al Messico. La Nuova Zelanda deve aver già finito, perché adesso saranno tipo le 6 del mattino o le 7 del mattino. E in Italia si svolge in 23 città, 170 eventi quest'anno, e abbiamo iniziato proprio qui da Genova a portare Pint of Science Italia. Esiste da un po' di anni e quest'anno, dopo il Covid, stiamo sperando di fare qualcosa di bello, riportare la scienza, riportare il parlare di scienza, non soltanto della pandemia e non soltanto di vaccini, ma anche di tutta la scienza, perché crediamo sia molto importante che i cittadini abbiano la possibilità di sapere dai ricercatori quello che i ricercatori fanno nei loro laboratori. Io sono Filippo Levi, sono un ricercatore, sono un fisico, mi occupo di magneti superconduttori per gli acceleratori di particelle, una roba molto, una supercazzola quasi diremmo, e niente, sono qua come facente parte dello staff di Pint of Science che è un evento che direi che sta andando molto molto bene e niente, è un evento molto bello che avvicina in qualche modo la ricerca alle persone comuni che magari, tutto quel genere di persone che magari dicono eh sì, belli i neutrini, le particelle, belli la tetonica azole di stasera, molto bello ma non ci capisco niente, è una cosa distante, invece in questo modo abbiamo un'occasione per portarla alla portata di tutti e quindi niente, mi sembra un'ottima occasione per tutti.